Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica a domanda risponde. Oggi parleremo di personale ATA e aggradatori della terza fascia. Risponderemo alle domande che ci avete inviato. Per la verità numerose domande ne abbiamo scelte alcune a cui daremo risposta. Se nella domanda ATA per i gradatori di terza fascia, in cui ero già presente nel triennio precedente, volessi cambiare provincia oppure scuola capofila, posso farlo? Certo, gli aspiranti all'aggiornamento o conferma dei gradatori di terza fascia del personale ATA possono tranquillamente cambiare sia provincia che scuola capofila. Cioè rimanendo chiaramente nella stessa provincia possono cambiare scuola capofila. Se cambiano provincia è ovvio che cambieranno anche scuola capofila. Se si era presenti nelle gradatori di terza fascia del personale ATA del precedente triennio, l'istanza propone in automatico la provincia e la scuola scelte nel 2017. Qualora lo si desideri, la provincia e la scuola si possono comunque modificare. Nel caso in cui la scuola alla quale si era destinata la domanda nel 2017 non fosse tra le sedi esprimibili per questo nuovo triennio, l'istanza non la propone e si dovrà scegliere una nuova scuola. Comunque è facilissimo cambiare scuola perché appena entrati nella compilazione della domanda come facciamo vedere in uno dei nostri video tutorial, dal menu a tendina si va a ricercare la provincia, si può dunque modificare quella preesistente e quindi poi scegliere una delle scuole della nuova provincia. Passiamo alla seconda domanda. Come posso dichiarare il servizio civile svolto presso il Ministero della Difesa dal 9 gennaio 2015 al 28 dicembre 2015? Il sistema dà problemi di inserimento. Per la verità non dà problemi di inserimento il sistema, il problema è che la dichiarazione di questo titolo di servizio va inserito ad anni scolastici. Quindi si tratta di un altro servizio, di altra tipologia di servizio prestata alle dipendenze dell'amministrazione statale. Va dichiarato a cavallo di due anni scolastici, ovvero nella fattispecie il 2014-2015 e il 2015-2016 e in questo modo. Dal 9 gennaio 2015 al 31 agosto 2015 il periodo va inserito per l'anno scolastico 2014-2015, mentre dall'1 settembre 2015 al 28 dicembre 2015 il periodo, quello rimanente, va dichiarato per l'anno scolastico 2015-2016. Veniamo alla terza domanda. Ho un diploma di perito agrario. Con questo titolo posso presentare domanda per entrare nel profilo di assistente tecnico per le gradatorie della terza fasciata. Il laboratorio con codice AR28 si definisce come laboratorio di azienda agraria e proprio per il ruolo, il profilo di assistente tecnico. Quindi è richiedibile per la gradatoria di terza fasciata per chi ha proprio un diploma di perito agrario. Speriamo che queste risposte siano utili a chi deve presentare la domanda. Continuate a seguirci nei nostri canali social di Facebook e YouTube perché andranno in onda altri video interessanti sulle tematiche di attualità, proprio anche tecniche. vi ringraziamo, un saluto a tutti quanti.